Due milioni di euro finanziati dalla regione Campania per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento dello stadio Arechi di Salerno per attenersi ai criteri infrastrutturali che la Lega chiede per l'iscrizione al campionato di Serie A. L'amministrazione comunale di Salerno è pronta a procedere con la convenzione già in essere per poi proseguire con la nuova proprietà della Salernitana, un nuovo impianto di illuminazione con adeguamento generale che diventerà tutto a LED. Nuovi tornelli ai 36 attuali, se ne aggiungeranno altri 6 che consentiranno l'ingresso di circa 32 mila spettatori, l'abolizione delle reti in curva, lavori in tribuna, stampa, bagni e altre attività secondarie. E' toccato all'assessore all'urbanistica nonché vice sindaco di Salerno Mimmo De Maio questa mattina a presentare al comune di Salerno l'intero programma con il sindaco e l'assessore allo sport Angelo Caramanno, un piano di ammodernamento dell'impianto di via al diende. Noi stiamo adeguando lo stadio ai criteri infrastrutturali che ci sono stati rassegnati dalla Rega Nazionale Professionisti di Serie A. Abbiamo fatto le nostre verifiche, buona parte di questi criteri già sono in dotazione alla nostra struttura sportiva, c'è necessità di alcuni adeguamenti, in particolar modo forse più significativo è sicuramente quello legato all'illuminazione. L'illuminazione sarà completamente rifatta, per fare questa attività noi abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Campania, abbiamo avviato tutte le procedure, abbiamo avuto già le relative risposte, abbiamo individuati i tecnici che stanno progettando l'impianto di illuminazione, abbiamo la gara per rifare l'impianto che sarà fatto completamente, noi non adeguiamo quello preesistente. Rifacciamo completamente l'impianto di illuminazione dello stadio, abbiamo anche da questo punto di vista un rispiamo energetico significativo. Nell'emore che questo venga fatto si è predisposto anche un impianto integrativo dell'impianto attuale per garantire anche l'immediata fruizione dello stadio e man mano porteremo avanti anche il completamento dell'impianto. Sarà fatta la tribuna stampa, rifatta, riqualificata, resta più decorosa con i relativi servizi igienici, c'è una prescrizione che il criterio infrastrutturale chiede relativo all'adeguamento delle panchine che deve ospitare comodamente 18 unità, saranno fatti poi delle attività ulteriori quasi di manutenzione anche se non sono richieste diciamo nelle criteri ai quali prima facevo riferimento che riguarda un po' l'infiltrazione di acqua che registravamo nella tribuna ad onore, un'impermeabilizzazione che così è limitica anche il problema che registrava un piccolo problema negli spogliatoi, poi in prospettiva stiamo persino immaginando ad una variazione dell'accesso dei calciatori al terreno di gioco che oggi avviene con quel serpentone che viene messo all'occorrenza, immaginavamo persino di poter aprire un varco sulla tribuna centrale e far entrare i calciatori dal centro ma questo sicuramente in prospettiva. Inoltre aggiungo abbiamo avviato la gara con un finanziamento che già avevamo di circa 400 mila euro per i nuovi tornelli che passeranno da 36 a 42, sono sei doppi tornelli, uno nei distinti doppio, due doppi nelle tribune che considerando di passare da 21.500 e 31.000 e oltre con questi nuovi varchi. Infine già avviata la gara perché è già stata espletata, avevamo un finanziamento con la cassa depositi e presti di 540.000 euro che serve per sistemare la recinzione esterna allo Stato in prossimità degli esercizi commerciali di una prescrizione che c'era stata fatta già da tempo dalla questura e che già in itinere perché il progettazione relativa a garage è stata espletata. Quindi come si vede stiamo andando velocissimi, voglio dare un applauso a tutti gli uffici che stanno lavorando a queste procedure, non dobbiamo chiaramente rispettare i codici degli appalti e tutte le norme di riferimento ma siamo assolutamente fiduciosi che ci presenteremo al campionato di serie A iniziato nel migliore dei modi. A dire il vero noi già abbiamo avviato le procedure per quanto riguarda le priorità perché abbiamo fatto una scelta delle priorità e come dicevo l'intervento più significativo sono i colpi illuminanti, sono 600-700.000 euro soltanto per acquistare e installare i nuovi led. Quindi abbiamo dato la progettazione ad un ingegnere luminotecnico che ha specifica competenze nel settore e siamo già partiti. La gara del 15 agosto di Coppa potrebbe già avvenire con questi miglioramenti? Io immagino di sì perché con i piloni, i cosiddetti sostitutivi integrativi di quelli attualmente, potremmo tranquillamente iscriverci e dare le risposte che la Lega ci ha chiesto.